L'uomo grido d'allarme, ieri lanciata la meno assenza a Pozzallo da imprese e sindacati sull'autostrada Rosolini-Modica, non ce la facciamo più e l'autostrada rischia di non vedere la luce tra canteri fantasma e cavalcavia sospesi. L'opera, secondo il progetto iniziale, andava completata entro dicembre 2019. Entro questa data dovevano essere effettuati i necessari collaudi, visto garantati in vigore di una nuova normativa europea, classificherebbe l'opera come non collaudabile perché non più rispondente a nuovi criteri progettuali e ieri a Pozzallo, su organizzazione della GGL Cisleville, presenti i deputati, alcuni sindaci e parlamentari andati in onda un nuovo film con la solita trama, l'ennesima, dalla disperazione di chi non riceve il pagamento per le funiture effettuate, con le maestranze che non percepiscono il salario e il rischio è ben più che concreto che l'autostrada in provincia rimanga un sogno irrealizzato, una cattedale nel deserto, l'ennesima in Sicilia. Da qualche giorno quindi poi si va a votare per eleggere il nuovo Parlamento nazionale, dal 5 marzo la Sicilia e la provincia di Ragusa attendono risposte concrete dalla politica, con le stesse risposte disattese però da troppo tempo.